Lo scontro sulle nuove assunzioni alla tua, azienda di trasporto pubblico regionale, i sindacati avviano ufficialmente lo stato di agitazione, contestato il nuovo bando. Lo scontro sulle nuove assunzioni alla tua, azienda regionale di trasporto pubblico, avviata ufficialmente dai sindacati la cosiddetta procedura di raffreddamento, ovvero lo stato di agitazione dei lavoratori. In attesa della convocazione da parte dei vertici societari, la richiesta è di sospendere come previsto per legge qualunque atto unilaterale, dunque anche il bando contestato. Un primo concorso sarà riservato agli under 30 che non abbiano già esperienza, per tutti gli altri tua chiede di non riconoscere la contrattazione di secondo livello che garantisce migliori condizioni di lavoro. Inaccettabile la replica dei sindacati e avere dipendenti che a parità di competenze guadagnino meno dei colleghi.